Ci troviamo a Piacenza, alla chiesa del Corpus Domini, dove abbiamo un concerto di otto campane. Adesso ascolteremo la suonata per la Santa Messa Vespertina, il concerto solenne ad otto campane. Anche se fuori dalla tradizione, in questa chiesa viene suonato per ogni Santa Messa festiva. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.